Questa maglia è il cuore di Napoli. È la nostra prima pelle. È un brivido che ci avvolge quando il San Paolo ci chiama. Con questa maglia addosso non siamo soli. Mai! Con il viola vogliamo sentire anche la tua voce. Vieni al San Paolo. Sabato c'è. Napoli-Fiorentita. Grazie a tutti.